Il successo della miniserie tv Chernobyl, targata HBO, disamina accurata e lucida dei fatti e delle conseguenze del peggior incidente nucleare nella storia, ha provocato un boom di prenotazioni sui voli per la spettrale cittadina dell'Ucraina settentrionale. Un aumento del 40% delle richieste da quando a maggio è andata in onda la serie, da parte di turisti curiosi di visitare la centrale dove il 26 aprile dell'86 esplosa il reattore numero 4. Chernobyl è così, da un lato è un posto che fa riflettere, ma dall'altro è solo un posto come un altro. È bellissimo qui, c'è molta calma, l'atmosfera è molto tranquilla. A Pripyat, la città fantasma che un tempo ospitava i 50.000 impiegati della centrale, c'è un parco giochi abbandonato. La grande ruota panoramica non è mai entrata in funzione, doveva essere inaugurata il 1 maggio dell'86, sei giorni dopo il disastro. Un tour in lingua inglese costa all'incirca 100 dollari a persona. Il pensiero delle radiazioni ce l'hai sempre, ma volevo talmente venire a vedere questi luoghi che ho deciso di correre il rischio. Mia mamma a casa probabilmente la pensa diversamente, ma sai, per me era un rischio che ero disposto a correre. Nello scoppio morirono in 31, decine di migliaia di persone furono costrette a scappare. 33 anni dopo alcuni studi sostengono che le vittime delle radiazioni siano state 115.000, l'OMS ne stima 9.000.